In genere quando si traccia il bilancio di un anno o si fanno gli auguri per l'anno che viene si usa una cornice ricca, sfarzosa. No, noi non vogliamo essere ipocriti, siamo con Irene Lamanna, presidente dell'associazione Taranto Turismo, una figura battagliera per quanto riguarda le periferie tarantine. E allora è giusto fare un bilancio della situazione di Taranto, non nello sfarzo, ma partendo dalle miserie cittadine, dallo stato di degrado per esempio di via Vasari a Talzano, giusto come esempio. Allora, Irene Lamanna, tracciamo un po' il bilancio dell'attività amministrativa o della non attività di questa amministrazione e le speranze per il 2017. E il messaggio di fine anno. Io chiederei al cameraman di spegnere la luce così si sente solo la mia voce per dare proprio contezza di quello che è il buio non solo di via Vasari ma proprio della città di Taranto. Spegniamo la luce, Antonio. Sicuramente continuerà a sentirsi la mia voce ma continuerà a vedersi il buio intorno a noi perché questo è il vero stato di degrado. Possiamo riaccenderla. Possiamo riaccenderla, sì. Lux Fiat. Questo è il grado di degrado in cui siamo costretti a vivere in tutta Taranto. Come ci raccontavamo prima, questo è stato un Natale ibrido per la nostra città, non si è assolutamente sentito. Triste, Natale triste. Assolutamente triste, senza nessuna iniziativa, senza nessuna luce. Da noi a San Vito hanno messo una stella che non è neanche illuminata perché quest'anno, mentre lo scorso anno ci siamo impegnati personalmente tra imprenditori e commercianti, quest'anno non sono stati capaci neanche di chiedere al commerciante che si è reso disponibile l'anno scorso di prestargli un po' di luce per illuminare la stella. 2017. Quali speranze? A maggio si torna al voto per la rielezione del Consiglio Comunale, del Sindaco? Aspettative? Che nessuno di coloro i quali hanno gestito per questi dieci anni, o meglio che tutti coloro i quali hanno gestito in questi dieci anni, abbiano il coraggio di non candidarsi, o meglio abbiano il buon senso di non candidarsi. Il pudore? Il pudore di non candidarsi perché... Senso civico, se li dire. Quello sicuramente non ce l'hanno e non potranno dimostrare di averlo, però almeno un senso di vergogna per lo Stato in cui ci troviamo. Tra assessori e consiglieri io non saprei veramente a chi dare la responsabilità. Sono stati dieci anni di declino totale fino ad arrivare a questo buio che vediamo oggi. Quindi auspichiamo e ci auguriamo un 2017 in risalita, un 2017 migliore, un 2017 più sorridente, un 2017 solare, un 2017 che possa darci la spinta giusta per ripartire a Taranto, agli imprenditori, al commercio e alla città stessa. E come diceva il buon Edoardo, adda passà, annuttata, addio 2016, ben arrivato 2017.